Testi, che sta succedendo? Abbiamo visto un po' di movimento intorno ad Elena. No, siamo stati, diciamo, aggrediti è una parola inopportuna, ecco, siamo stati importunati, scusatemi. Diciamo che il clima, come abbiamo detto, sia molto acceso e solamente per il fatto che fossimo qui di fronte alla porta di Damasco è arrivata una persona, una madre con dei figli di Sderot e ha iniziato a sputarci pensando che fossimo a favore di Hamas e l'esercito ha specificato che eravamo italiani ma non è intervenuto, insomma non ha fatto nulla e di fatto lei è rimasta a insultarci per svariato tempo dicendo voi siete qui e quindi siete a favore di Hamas e questo è il clima che si respira, diciamo, chiaramente una minima parte perché il popolo israeliano è sempre stato educatissimo accolti con molta benevolenza però c'è una parte che è veramente infuriata e la si vede, la si percepisce l'abbiamo percepita oggi a Betlemme e anche qui a Gerusalemme il clima, insomma, è quello che vi raccontiamo in minima parte, chiaramente